Non è tornato a casa dopo un colloquio di lavoro. I genitori lo hanno atteso vanamente, poi ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. È da venerdì che non si hanno più notizie di un giovane di Fragneto Labate, un piccolo centro in provincia di Benevento. Il padre ha raccontato ai militari che martedì scorso il figlio è partito per l'Abruzzo per incontrare il titolare di una struttura ricettiva. Un appuntamento fissato nella speranza che si traducessi in un'occupazione che non ha però dato un risultato positivo. Un'opportunità sfumata dunque, ma l'interessato è rimasto in zona, forse alla ricerca di un'ulteriore possibilità. Ha soggiornato in un diverso albergo all'Aquila che ha lasciato venerdì pomeriggio per tornare a Fragneto, dove non è però arrivato. I familiari hanno provato a mettersi in contatto con lui, muto e cellulare. Comprensibile la preoccupazione, da qui la decisione di rivolgersi ai carabinieri.